Io non sono da solo, 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 non siamo mai da soli, nemmeno in campo, perché è insieme che si vince, ma il giocatore con la maglia diversa dalla mia è solo il mio avversario in partita, razzismo, omofobia, discriminazione, odio, violenza e paura, questi sono invece i miei nemici, ogni giorno, e sono questi che voglio mettere in fuori gioco, perché c'è una squadra intera che li vuole combattere, ed è la squadra di tutti i palermitani, e di tutte le palermitane. Siamo insieme, siamo il Palermo, siamo Aguile.